Salve e bentrovati. E' per me un onore poter tenere oggi un discorso su un autore così grande qual è Eric Arthur Blair, al secolo noto come George Orwell. In genere Orwell viene ricordato principalmente per i suoi due lavori di Animal Farm, La fattoria degli animali, in 1984. In realtà Orwell è un autore ben più profondo e ben più complesso di quanto non appaia o non si voglia far apparire nella tradizione culturale diffusa nella nostra epoca. Proveremo nei limiti di questo contributo, considerando la vastità di un tale autore, ad accennare alcuni elementi importanti, fondamentali della sua opera, ma anche alla relazione che questi hanno con il nostro tempo. Innanzitutto il primo problema che sorge nel trattare Orwell, come alcuni di voi avranno già visto, ho dovuto prima fare una estremamente generica prolusione nel video precedente parlando dei predecessori ed epigoni di George Orwell. L'altro problema è appunto il fatto che la sua opera, il suo lavoro, è così radicato all'interno della cultura occidentale, e in particolare della cultura tra Ottocento e Novecento, che è difficile parlarne come un'isola autonoma, come qualcosa che è uscito fuori dal nulla in genere. Come proviamo un po' a dimostrare in questi piccoli contributi, la cultura parla sempre a se stessa, cioè in qualunque discorso autenticamente culturale ci sono sempre molti altri discorsi. Questo è anche uno dei metodi che si potrebbe utilizzare per riconoscere o per capire i discorsi anticulturali che vengono proposti nella nostra epoca, il cui unico obiettivo fine è quello commerciale, dunque non hanno un mero ambito di discorso, ripetono una formula commerciale per vendere, non libri, come li chiamo io. Torniamo ai libri. Proprio mentre riflettevo su come si sarebbe potuto impostare questo breve discorso, guardavo un po' tra i miei libri e cercando, volendo magari mettere insieme qualche altro testo che forse è correlato. Devo confessare di aver dovuto smettere dopo il ventesimo titolo, perché purtroppo si tratterebbe di fare una carrellata enorme. Infatti, gli altri li ho riposti, ma alcuni li ho ancora qui. Ad esempio, come abbiamo già detto la volta scorsa, l'Utopia di Moro, ad esempio, è un testo importante per questo nostro discorso. Ma il testo di cui non abbiamo parlato sarebbe, ad esempio, il tramonto dell'Occidente, di Spengler. Tutti questi testi hanno a che fare indirettamente con Orwell. Non sono testi che Orwell cita o di cui parla. Orwell parla dell'Utopia, ovviamente conosciamo, ma non è un tema per lui diretto, nonostante fosse un intellettuale della cultura prodigiosa che viveva intensamente nella cultura della propria epoca e ne comprendeva e conosceva i problemi. Infatti, alcuni libri che hanno particolarmente influenzato Orwell, su cui poi Orwell ha scritto, tra questi appunto c'è un testo che era classico in quel tra 800 e metà 900 che oggi è un po' scomparso dalle bibliografie, ma anche dall'attenzione colta, chissà come mai, che è un testo di We Would Read, The Martyrdom of Man, e Reade era un personaggio estremamente interessante che ebbe una profonda influenza sulla sua epoca, anche persino già nell'800, anche su autori come Darwin, che utilizzò alcuni dei suoi concetti e idee. Lui si era anche messo in contatto con Darwin perché voleva organizzare una spedizione in Africa, ma influenzò poi altri autori come Herbert G. Wells, come appunto Orwell. E un altro autore che influenzò particolarmente Orwell, e di cui era amico, ed è un autore estremamente sfortunato, era George Gissing, di cui ho solo questo testo, che è un libro per The Private Papers of Harry Rycroft, che è un amante dei libri. Gissing aveva avuto una serie di vicende sfortunate, ma era un profondo amatore, amava tantissimo, un grande bibliofilo. E il sogno che racconta, la storia che racconta in questo libro, è la storia di uno che vince una grande somma di denaro e si ritira in campagna, compra una casa piena di libri, con una governante, e trascorre la sua vita studiando. Questi sono libri scritti da studiosi per studiosi, o per amanti dei libri, quanto meno. Poi abbiamo per l'appunto i testi noti, per cui è noto Orwell, che siamo, diciamo, 1984 e Animal Farm. In questa raccolta, per qualche curiosa, per qualche stranezza editoriale, 1984 è messo prima di Animal Farm, mentre l'ordine è immerso, Animal Farm viene prima di 1984. In italiano, la prima volta che io lessi Orwell, l'ho lessi in italiano tantissimi anni fa, ce n'è un'edizione, diciamo, carina, potrebbe essere stata tradotta meglio, ma insomma è una traduzione di Baldini, e l'edizione Mondadori, purtroppo Mondadori, ma forse ce ne sono altre edizioni da adesso anche di cui non so. Il libro, però, secondo me è più rilevante per il nostro discorso, perché è ovvio che sia Animal Farm, 1934, sono rilevanti, però sono abbastanza noti, insomma, e anche facili, anche facili da reperire, e come dicevamo oggi, Orwell è uno di quei pochi autori che hanno avuto la fortuna, o la disgrazia, di vedere il loro nome entrare nel linguaggio comune. Oggi si dice, così come si può dire kafkiano, si può dire anche orvelliano, anche se non viene questo termine spesso utilizzato in proposito. Mi pare di aver letto qualche tempo fa su un giornale americano la notizia, secondo cui in una scuola degli studenti criticarono, fecero delle dimostrazioni contro la direzione della scuola, perché gli impediva, perché gli insegnanti gli impedivano di utilizzare i telefonini cellulari durante le lezioni, e loro accusarono, insomma, dissero che questa era una cosa orvelliana, appunto, per dire come il, come mai sia utilizzato a sproposito questo termine. Per Orwell non bisogna ridurre o limitare un autore di questa grandezza, di questa magnitudine ai suoi ultimi, seppur importantissimi e fondamentali lavori, perché Orwell era anche un saggista, un saggista straordinario. Qui c'è una raccolta, come vedete, un libro, insomma, abbastanza corposo. Se pensate, questo è 1984, questi sono i suoi saggi. Tra l'altro pensando che Orwell visse una vita purtroppo molto breve, a 46 anni, come abbiamo già avuto modo di osservare. E nei suoi saggi si nota la vastità dei suoi interessi e la profondità della sua erudizione e anche l'onestà della sua intellettualità. Per questo io dico che per me è un grandissimo onore trattare un autore come Orwell, perché Orwell non è semplicemente uno scribacchino, non è uno che si mette lì e fa dei grandi discorsi, delle grandi costruzioni che però poi non significano niente. Come tutti i grandi autori è un individuo, una persona profondamente impegnata nel discorso sociale, nel discorso umano, nel discorso filosofico. nonostante Orwell è uno di quelli che inaugurano la tradizione dell'epoca contemporanea in quanto non ha mai avuto nessuna posizione accademica, in vita sua non è mai capitato nessuna delle grandi università inglesi di chiamare Orwell per fargli fare una conferenza. Non gli è mai successo. Gli è sfuggito. Succede. Capita. Questo per capire come io ho una raccolta di saggi su Orwell, ad esempio, pubblicata appunto dalla Cambridge University, dove ci sono delle cose che sono è difficile mantenersi calmi quando uno le legge. C'è un saggio su Orwell, l'Accademia e gli intellettuali che sono delle cose che lasciano completamente senza parole, atterriti e allibiti. Però è la normalità oggi. Però, nonostante Orwell non abbia avuto parte perché inaugura questo percorso della modernità perché non era mai successo prima nella storia quello che è iniziato a succedere negli ultimi due secoli, due secoli e mezzo forse, in cui personalità chiave fondamentali della cultura non hanno alcuna relazione o alcun posto con il sapere detto accademico. Come se ci fossero due due rami c'è la cultura e poi ci sono questi signori che fanno altre cose. Questo è un tema di cui Orwell indirettamente parlerà per molti versi quando parlerà appunto del ruolo dell'intellettuale di quanto può essere libero un intellettuale che viene stipendiato. Sono temi che si troveranno anche in Gramsci il problema in Benda con il tema dei chierici eccetera è un tema ovviamente vasto però è un tema scioccante sconvolgente perché se ancora fino all'ottocento il ruolo dell'intellettuale abbiamo detto Spengler anche Spengler insomma scrisse il suo lavoro così con una semi-oscurità poi divenne un testo citatissimo ma parliamo comunque di altre epoche succede che a parte che ne veniamo deprivati tutti però pensate non lo so Kierkegaard tra i più grandi esempi io ricordo sempre Kafka Proust e Pessoa nella loro epoca se tu fossi andato a Lisbona o a Praga e avessi chiesto dove sta Kafka la gente non avrebbe neanche cioè Kafka né Kafka né Pessoa erano rilevanti per la cultura della loro epoca però Oiken Rudolf o Manfred adesso non mi ricordo più neanche credo Rudolf Oiken o Manfred Oiken anyway era un personaggio importantissimo così come è successo per tantissimi tantissimi succedeva succedeva anche per Manzoni succedeva insomma e Oiken vinse il premio Nobel infatti mentre Proust Kafka Pessoa non hanno mai avuto neanche una citazione per il premio Nobel è un cambio di paradigma che volevamo dire e che è avvenuto nella modernità è una cosa che non era mai successa prima nella storia l'intellettuale il sapiente veniva magari massacrato bruciato quello e l'altro ma non è mai successo che non avesse un rapporto con il suo tempo o con la cultura dell'epoca oggi invece succede infatti come dicevamo Cioran abbiamo detto abitava a due passi dalla Sorbona ma non aveva nessuna relazione con la Sorbona Orwell intellettuale notissimo già in Mita non è mai stato chiesto di partecipare anzi viene oggi accusato proprio di come dicevamo meglio quei testi è meglio non toccarli perché altrimenti non prevalevano davvero Orwell invece essendo individuo colto dunque amante della human decency questo è un tema che ti torna molto spesso negli scritti di Orwell human decency sarebbe la decenza common decency il senso della decenza comune non è giusto fare questo non è giusto fare quell'altro anche se non è proibito dalla legge cosa che invece oggi è l'esatto contrario oggi io spesso in America però ho sentito dire ho sentito persone dire se non è proibito dalla legge dunque è consentito l'America è uno stato l'America da questo punto di vista l'abbiamo già detto è nella nella depravazione culturale più assoluta più totale perché giustamente nella cultura è diventata una questione di merci sui banchi del mercato quanto costa questo questo titolo quanto costa questa e dunque è finita scomparsa non che prima vi fosse chissà quale però hanno perso quell'occasione per diventare un paese colpo l'hanno perso sono diventate un'altra cosa infatti lo vediamo con il presidente che è stato eletto non è che queste cose sono disgiunte qui ci aiuta appunto profondamente Orwell perché e questo è il suo tema dicevamo Orwell inizia la sua esistenza in maniera abbastanza confortevole nasce nel in India nell'impero britannico nelle colonie britanniche diventerà poi un ufficiale della polizia coloniale della polizia imperiale a Burma un carico che lascerà dopo sei anni e mentre era si trovava in licenza in Inghilterra e di cui lascerà alcune descrizioni profondissime bellissime sul meccanismo appunto dell'impero c'è una frase di Orwell che lui cita nei suoi messaggi in cui dice in order to hate imperialism you have to you have got to be part of it per odiare per odiare l'imperialismo devi esserne parte e questa sembra perché lui allora una lettura superficiale ci fa credere che in questo Orwell voglia fare riferimento esclusivamente alla propria esperienza personale in quanto era stato come dicevamo ufficiale della pulizia imperiale non è davvero questo il punto del suo discorso come in tutti i discorsi che fa Orwell quando lui dice questo non parla unicamente di se stesso parla di un'esperienza dell'occidente di un'esperienza dell'occidente anche in Inghilterra nell'epoca in cui l'Inghilterra era la massima potenza coloniale e quello che lui vuol dire è ci siamo tutti dentro siamo tutti parte di questo meccanismo dell'imperialismo dunque se tu vuoi iniziare ad odiarlo devi esserne prima parte devi esserci dentro per riuscire ad odiarlo infatti la intera biografia la storia di Orwell si muove su questi su questi binari fin da bambino cioè lui nasce da una famiglia di medie condizioni borghese famiglia appunto della burocrazia imperiale lavoravano alla costruzione del grande impero exigi monumento ma viene mandato pensate ad otto anni viene mandato in una scuola la scuola di San Cipriano dove c'è un saggio che verrà pubblicato postumo bellissimo such such were the joys che è contenuto appunto qui nella nella raccolta poi diremo di un saggio se lo ricordo di un saggio che non è purtroppo contenuto che è un saggio rilevante che guarda caso non è contenuto dal titolo will freedom die with capitalism la libertà morirà con il capitalismo e in questo in questo saggio such such were the joys che è abbastanza è abbastanza breve sono una ventina di pagine lui racconta di queste esperienze terribili in questa scuola dopo San Cipriano lui andrà a Dayton che è un'altra scuola d'elite per la costruzione appunto della classe dirigente britannica che doveva andare a dirigere l'impero in quell'epoca e lui racconta una vicenda di lui da bambino che un bambino di otto anni bagnava il letto la notte una chiara reazione Orwell era un individuo della sensibilità maestosa immaginiamoci cos'era questo bambino con un grande cuore che la famiglia invece manda in questa scuola lontana severa e lui era anche già da bambino era quello che sarebbe stato era un uomo critico che che metteva in dubbio quelle idee che gli venivano inculcate ma questo evento traumatico ogni volta che lui bagnava il letto lo mandavano nell'ufficio del direttore il direttore lo picchiava con una frusta un frustino esperienze terribili che infatti questo saggio pare che lui lo abbia scritto negli anni 40 e nel raccontare questa cosa c'è tutto un discorso che lui fa sul senso sia della delle punizioni della punizione ma anche sul senso del del commettere una colpa di cui non si è responsabile perché lui viene punito per una cosa che non può controllare infatti dice io immaginate questo bambino che la sera prima di andare a letto pregava l'onnipotente di non fargli bagnare il letto e invece succedeva e una delle conclusioni che è bello quando dice era possibile dunque non commettere un peccato senza sapere che lo si stava commettendo senza volerlo commettere senza essere capaci di evitarlo il peccato non era necessariamente qualcosa che tu facevi ma poteva essere qualcosa che ti succedeva e basta e poi la chiusa di questo di questo paragrafo è stupenda mi trovavo in un mondo in cui non era possibile per me essere buono questa questa chiave fondamentale che proprio determina il pensiero di Orwell da bambino sarà una chiave di lettura importantissima per il resto della sua storia infatti quando Orwell lascia la polizia imperiale che si trova a Londra vuole discendere nelle condizioni discende insomma nelle condizioni di povertà assoluta intenzionalmente andando a vivere a Parigi in una in una zona che oggi è molto centrale ma all'epoca era una zona poco abbiente vicino al pantheon tra l'altro e oggi guardate anche questa è un'altra cosa è così interessante vedere come la topografia delle città cambi quando il borghese che manca di immaginazione vede quello che fa quello che ha l'immaginazione allora dice ma se lo fanno loro vuol dire che c'è qualcosa in quel luogo forse una cosa quello che voglio dire è che ci sono zone delle città che erano completamente abbandonate lontane da qualunque persona che avesse un minimo di introito elevato e che invece quando cominciano ad essere popolate da artisti da persone da individui creativi diventano immediatamente zone in importanti dove si trasferisce il borghese scacciando il creativo e facendolo diventare semplicemente un'altra area perché è successo ad esempio a Parigi è successo in molte città italiane è successo a New York con l'East Village ad esempio succede un po' dovunque chi non ha immaginazione vede chi ha immaginazione ci va ma quando ci va lui distrugge quel luogo che era stato reso luminoso dall'immaginazione succede appunto anche con la cultura arcem occupare diciamo sempre quella frase di Polibio quelli che hanno visto la cultura vogliono occupare la rocca ma nel momento in cui la occupano diventa una rocca vuota diventa un castello vuoto non c'è più l'anima non c'è più nulla e dalla topografia delle città fino alla topografia della cultura è sempre la stessa cosa per questo facevano forse bene i medievali che creavano i monasteri come dei castelli dove non si poteva entrare ma torniamo ad Orwell allora Orwell si trasferisce in questa a Parigi e fa per un anno circa la vita del del mendicante si associa anche a questa gente e tutte queste esperienze verranno poi raccontate a Orwell in un libro che si intitola Down and Out in Paris in London senza una lira tra Parigi e Londra e che è un libro che verrà pubblicato nel 1933 ed è proprio una delle ragioni per le quali Orwell cambierà il proprio nome infatti il nome George Orwell proviene dal George Ray George King George e Orwell era un piccolo fiume che scorreva vicino alla casa della sua famiglia perché non voleva firmare questo testo come Eric Blair perché questo sarebbe stato non sarebbe stata un'onta per la famiglia che voleva risparmiare lui voleva risparmiare quest'onta la famiglia tra l'altro aveva anche già avuto una serie di problemi forti di contrasti molto forti con il padre quando aveva abbandonato la polizia imperiale perché ovviamente quella era la carriera verso cui la famiglia lo spingeva ma la sua anima andava altrove infatti Orwell c'è un passaggio pubblicato nell'estate del 46 in un saggio dal titolo Why I Write perché scrivo e lui dice da una da una vera giovane from a very early age da un'età molto molto presto da molto presto forse l'età di 5 o 6 sapevo che sapevo che crescendo avrei dovuto essere avrei voluto essere uno scrittore tra l'età di 17 e 24 anni ho provato ad abbandonare quest'idea cioè il periodo scolastico e anche il periodo della sua enrollment il suo arruolamento nella polizia imperiana but I did so ma ho fatto questo con la coscienza che stavo outraging my true nature che stavo facendo violenza outrage che stavo alla mia vera natura e che prima o poi avrei dovuto settle down and write books avrei dovuto insomma mettermi settle down quando uno si sposa ad esempio settle down settle down è molto bello questo passaggio perché lui sta dicendo io sapevo che avrei voluto essere uno scrittore ho provato ad abbandonare quest'idea ma c'era la coscienza una una vaga una qualche coscienza non dice il pensiero l'idea non è un qualcosa di chiaro ma una coscienza che stavo facendo violenza alla mia vera natura questo è un passo infatti lui diventerà poi un barbone proprio per avviarsi alla sua vocazione di scrittore infatti in questo periodo a Parigi lui scriverà tre libri inizierà il download in Paris and London due libri non li abbiamo perché li ha distrutti lui ha iniziato altri due testi che ha distrutto ma in questo testo perché si vede penso Orwell purtroppo bisognerebbe leggerlo soltanto in inglese perché è soltanto lì che si capisce la grandezza della sua scrittura qui non sta parlando semplicemente di se stesso vedete come Orwell ha questa Orwell fa sempre finta di parlare in maniera semplice per dire cose complesse quando lui praticamente in questo passo nel saggio fa questa analisi questo esame di coscienza ma nel farlo nel momento in cui il lettore legge questo testo è a sua volta portato se non costretto a fare una propria analisi di coscienza che cosa avrei voluto essere e cosa sono invece diventato che ci porta a questa è una delle domande più antiche di cui noi abbiamo memoria ad esempio nel libro del Genese quando Adamo sfugge si nasconde dalla presenza dell'Eterno l'Eterno gli dice dove sei dove sei Orwell sta facendo la stessa cosa facendo una propria analisi invita il lettore a farne a sua volta una a confrontarsi con la sua natura se ne ha una se non ha una natura presa in prestito Orwell è molto estremamente sensibile a questo tema sappiamo appunto da 1984 del condizionamento che è possibile imporre sull'essere umano tutto il 1984 è proprio la storia di questo discorso ma non è il solo testo 1984 arriva alla fine di un lungo percorso che inizia appunto già come vediamo dai saggi anche se pubblicati dopo pubblicati postumi in alcuni casi come per il caso di such such word joy in in un'età infantile quasi ma nasce anche da cosa da alcuni elementi che sono tipici di Orwell ma sono anche tipici del novecento Orwell dice Orwell si o Eric Blair in quel caso insomma nasce e cresce in una realtà in un mondo in cui la scelta che lui ha è o diventare come quelli della sua del suo gruppo un parte del meccanismo dell'imperialismo parte del meccanismo dell'ingiustizia della discriminazione dello schiacciare gli altri oppure seguire la human decency seguire questo tema della coscienza della decency dell'andare verso la strada che è più consone è un tema centrale in Orwell è più consone per l'essere umano che lo fa essere umano infatti vedete quella frase mi trovavo in un mondo in cui non era possibile per me essere buono ma perché mi trovavo in un mondo che per essere buono voleva che io fossi cattivo e questo e questo è uno degli elementi chiave che determineranno il percorso di Orwell infatti segue quella strada arriva al punto in cui c'è il suo testo sulla esperienza a Burma i giorni burmesi forse è stato tradotto in italiano per Miss Days che viene pubblicato dopo Down and Out in Paris in London così come ci sono alcuni saggi come Shooting an Elephant eccetera che in cui lui parla di queste esperienze che aveva avuto nel Burma tra cui la esecuzione di un di un individuo di un di un burbezo e questo impressionò tantissimo Orwell ovviamente quanto persona sensibile non impressiona il carnefice non impressiona colui che ormai non c'è più ma colui che l'individuo che c'è viene impressionato perché l'eliminazione di un altro di un essere umano è una cosa impressionante è una cosa è una cosa che soltanto una specie completamente completamente pervertita è potuta arrivare a pensare il senso della human decency della common decency fa capire fa sentire ma una cosa è averne esperienza indiretta altra è trovarvisi dentro esserne parte come lui infatti dirai questa ma Orwell lo spiega di nuovo in una maniera così così elegante non fa considerazioni come quelle che sto facendo io ad esempio dicendo che l'uccisione è una cosa orripilante orrenda no no lui lo fa in maniera da grandissimo scrittore descrive questa esecuzione già la descrizione è in sé una testimonianza ma anche una denuncia ma lo fa in una maniera così leggera ad esempio c'è un momento in cui nella descrizione dice questo condannato veniva accompagnato da altri due da due guardie da due soldati e nell'andare al patibolo trovò che c'era una una polla d'acqua di acqua sporca perché aveva piovuto per terra e il condannato nonostante stesse andando a morire si spostò verso destra per evitare l'acqua sporca per evitare di calpestare la la pozzagna vedete la grandezza di quest'autore già lì si vede si vede la profondità della sua percezione anche in questo gesto molto semplice elementare lui ci ha trasmesso l'umanità del condannato ci ha fatto sentire attraverso questa descrizione qualcosa che noi possiamo sentire anche noi e indirettamente ti fa sentire la tragedia del distruggere una vita una vita che fino a poco prima era consapevole tu la rendi nulla l'annullamento questo questo è uno dei tanti infatti il testo di Burmese Days non venne pubblicato in Inghilterra Gollans che era l'editore che aveva pubblicato nel 33 Down and Out in Paris in London non vuole pubblicarlo perché era un libro che avrebbe creato scompiglio e tantomeno problemi all'editore l'editore non voleva e venne pubblicato infatti in America da Harper and Brothers nel 34 poi dopo solo successivamente venne pubblicato anche in Inghilterra visto che era già era stato pubblicato in America però vedete già la denuncia coraggiosa voi immaginate un ufficiale della polizia imperiale e se noi pensiamo al mondo che ci circonda capiamo anche la grandezza di questi atti non soltanto separarsene ma anche scriverne in questi termini e volevo dire il saggio non il saggio dell'esecuzione non è In Burby's Days In Burby's Days però Orwell fa un'altra operazione prende questo personaggio Flory che è un anglo-indiano e pian piano lo rende consapevole della realtà di quello che è l'impero di quello che è la colonizzazione di quello che si fa coprendola con una bella facciata cioè Orwell in tutta la sua vita dall'inizio della sua vita si trova a doversi confrontare con una realtà che non risponde agli intenti reali di ciò che vi sta dietro che è proprio una delle essenze della modernità infatti Orwell vuole andare tra i poveri tra gli ultimi tra i diseredati che non è soltanto Orwell a fare questo percorso attenzione questo è un percorso estremamente cristiano non è che Gesù andava andava a parlare con stava negli alti circoli perché quello che era una volta il popolo si traeva il senso reale del 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 vivere sociale c'è una battuta che dice uno dei dei mendicanti in in down and out in Paris in London Boris quando si capisce che Orwell parlava appunto del fatto di essere uno scrittore e il mendicante gli dice guarda c'è una sola maniera di fare soldi scrivendo ed è sposare la figlia di un editore guardate guardate la grandezza di Orwell una battuta divertente che uno anche sorride ma al tempo stesso anche una critica del sistema culturale dove questi sono discorsi che già si trovano si trovano anche in altri autori dove l'autore diventa che cosa il il animale da somma dell'editore come il mulo è per il contadino come la macchina è per il capitalista già vedete anche nelle più piccole battute lui riesce a riassumere dei concetti che travaricano la semplice la semplice battuta dimenticavo prima che purtroppo non l'ho preso anche Marx potrebbe essere messo appunto in questa perché il discorso che Orwell fa in gran parte viene indirizzato appunto al tema del socialismo anyway dopo Down and Out in Paris e Burmese Days del 34 viene un testo anche questo estremamente interessante estremamente bello che si chiama Clergyman's Dodac sarebbe la 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 figlia del prete la figlia del del parro la figlia di un religioso e lì la storia anche questa è da leggere perché però comincia a emergere il senso della della decenza lui parla c'è un momento c'è un punto in cui c'è un passaggio in cui dice tra tutto quello che succede nella chiesa per quanto assurdo il suo scopo possa essere cioè si fa riferimento appunto alle credenze religiose però dice c'è qualcosa che è difficile da definire ma è un qualcosa di decenza di ritorno spirituale che non si trova nel mondo là fuori infatti in questo testo questa Dorothy che è quella che perde la memoria anche lì c'è il tema del perdere la memoria come se la memoria fosse una sovrastruttura che ti fa essere quello che sei in questa società infatti Dorothy nel perdere la memoria diventa tutt'altra persona e c'è un passaggio in cui c'è la Mrs. Creeley che è la responsabile di questa scuola di questa scuola privata in cui dice c'è una sola cosa di cui ti devi rendere conto una volta per tutte dice a Dorothy che era insegnante che c'è una sola cosa o c'è soltanto una la cosa there is only one thing that matters in a school and that's the fees c'è soltanto una cosa che importa nella scuola e queste sono è la retta per quanto riguarda tutte queste storie sulla evoluzione della mente dei bambini non mi importa è la commissione che a me importa non sviluppare le menti dei bambini e poi facciamo tutto un discorso brutto sui bambini che c'è anche un tocco di di Kenziano in questo in questo testo però infatti c'è un punto in cui Dorothy dopo essere passata per tutta una serie di storie e per tutta una serie di esperienze dice la fede svanisce fate vanishes but the need for faith remains the same as before la fede svanisce ma il bisogno della fede rimane lo stesso di prima questo è un discorso che ci porterebbe ci darebbe la possibilità di aprirci a tantissimi altri discorsi in quanto il bisogno della della fede e anche questo bisogno di questa apertura trascendente e dice se l'errore svanisce aver riconosciuto che un errore lo fa svanire ma questo non significa che quella radice dell'essere umano possa essere soppressa un discorso estremamente complesso che non possiamo fare qui subito dopo questo testo viene uno dei libri secondo me più interessanti da leggere per un per un per qualcuno che insomma si stia avviando insomma che sta crescendo se questo testo venisse fatto leggere nelle scuole tra i 16 e 18 anni secondo me potrebbe avere un'enorme influenza sulla sulla società ed è keep the aspedistra flying che in italiano è stato tradotto con fiorirà la spedistra che io ho qui io credevo di avere qui eccolo qui io ho questa vecchia edizione sempre purtroppo di Mondadori fiorirà la spedistra eccolo lì e questo è un testo che davvero in genere io non indico dei libri parlo dei libri ma non necessariamente ne consiglio la lettura perché alcuni dipendono dal lettore ma questo è un testo che dovrebbe essere parte del patrimonio culturale di ogni persona di ogni persona insomma accolta che ami i libri che abbia un certo rapporto con i libri in qualche modo questo libro viene ad Orwell anche dalla sua esperienza come lui lavorò come commesso in una libreria di seconda mano vedete di nuovo torniamo ai paradossi del novecento abbiamo già una volta citato PHP Lovecraft che faceva lavorava alla cassa di un cinema George Orwell che lavorava in una libreria di seconda mano immaginate ritrovarvi a Londra negli anni trenta entrare in una libreria e commesso è George Orwell è una cosa è uno scandalo della nostra epoca che non ha che non ha limiti è uno scandalo che non ha limiti già Schopenhauer queste cose le evidenziava come diceva chi vive per amore della filosofia che era lui ovviamente sta qui a compilare scrivere mentre quelli che la spregiano stanno sulle cattedre a fare è una è una cosa e parliamo dell'ottocento oggi oggi è non si può raccontare è una cosa ma del resto sono sapete io perdonate l'inciso personale ma sono estremamente pessimista sul futuro della nostra specie un giorno staremo anche noi con i dinosauri tra le specie estinte e questo forse è uno dei segni più 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 pesanti e più chiari del fatto che noi siamo in epoca finale perché quando svanisce la cultura svanisce il cuore della società svanisce l'anima della società è una società senza anima che cos'è sono individui che comprano e vendono cose cresce il dialogo tra gli esseri umani vedete infatti il dialogo diventa una cosa mediata attraverso un mezzo elettronico perché non c'è più là fuori non c'è più il dialogo perché le persone con cui si interagisce questo già consente una certa selettività perché solo chi ha un certo interesse può seguire certi discorsi ma là fuori questo interesse non c'è fuori si parla di scarpe si parla di abiti detergenti si parla di come sapete che colore c'è con la macchina o con l'altra cosa è finito è finito il dialogo è finito tutto vedete io dico sempre questa cosa della scomparsa del popolo perché il popolo parlava nel popolo c'era dialogo c'era curiosità c'era un discorso a volte anche discorsi assurdi incredibili ma c'era discorso una volta incontrai un signore a Napoli e gli chiesi dove si trovava un palazzo e questo signore che era un signore anziano signore del popolo non soltanto mi disse dove era ma mi accompagnò pure e cominciò a parlare e parlava come parlano le persone del popolo non parlava del detergente dello stipendio no 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 parlava faceva discorsi noi non ce l'abbiamo più tutto questo è scomparso è finito dunque hai George Orwell tu vai nella biblioteca e nella libreria e fai il commesso hai Lovecraft e stacca biglietti e poi invece i meriti e meriti e meriti e nullità che stanno lì e pontifiche sempre visto che siamo ormai nell'inciso personale ma tanti anni fa mi capitò una discussione piuttosto forte con un accademico della sapienza che adesso è passato a miglior vita si chiamava Antimo Negri e fu una lite abbastanza dura non per colpa mia da cui volarono parole pesanti da parte sua io mi astengo da questo tipo di bassezze perché questo signore che era che era un cattedratico che mamma mia chi lo deve tenere non sapeva e poi ormai avrei potuto pensare una cosa così che Schopenhauer odiava profondissimamente Hegel e poi basta aprire qualunque testo di Schopenhauer fu proprio quello che io gli dissi io stavo facendo un discorso quando dissi siccome sappiamo che lui iniziò ma che cosa dice lei non è per niente vero che Schopenhauer odiava Hegel e io rimasi così ho detto ma guardi ho detto Schopenhauer non ho detto qualche altro ho detto Schopenhauer e questo lo dice lei ma come lo dico io guardi può aprire qualunque testo e dopo in Schopenhauer ci sono testi in cui ogni due pagine se la prende con Hegel e questo non lo sapeva allora mi diede il criterio di autorità io ho curato opere di Schopenhauer e ho detto se l'ha curata mi dispiace per chi le legge noi siamo a questi livelli un cattedratico infatti lui ce l'aveva un pochettino con me perché siamo sempre l'ego di questi signori anche una cosa umano troppo umano veramente dicevo il giorno prima c'era stata una c'era un simposio su su Popper e io ero stato chiamato a presiedere alla sua relazione ora nel discorso avevo fatto un po' di discorsi sul tedesco nella traduzione dal tedesco in inglese di Orwell di Orwell scusate di Popper che creano una serie di problemi poi nella comprensione soprattutto in Italia in particolare vedi il tema della società aperta perché società aperta è un termine che viene tradotto all'inglese dal the open society ma questo termine in inglese non esisteva prima di Popper Popper che lo introduce perché traduce il tedesco perché lui nella sua testa pensava era austriaco pensava in tedesco allora traduce geschlossene Gesellschaft in tedesco lo traduce in inglese che diventa lo immerte perché in tedesco significa società chiusa lui lo immerte con società chiusa società aperta e società chiusa però the open society significa società aperta poi viene tradotto in italiano dall'inglese e diventa tutt'altra cosa sembra società in senso unicamente sociale mentre in tedesco il termine geschlossene Gesellschaft è estremamente più semplice io posso avere se io sono in un pub con quattro amici e stiamo bevendo una birra in tedesco è una geschlossene Gesellschaft cioè non ha questa questa massimizzazione che il termine ottiene nell'inglese che poi ottiene nella traduzione italiana questo l'abbiamo evidenziato spesso per altri succede molto spesso purtroppo succede succede nell'interpretazione di platone quando si traduce la politeia con lo stato un macello un disastro succede appunto con abbiamo fatto l'esempio del nostro del nostro accademico della società liquida e e siccome aveva fatto tutta una serie di precisazioni prima della sua prolusione questo non gli era piaciuto questo fatto e dunque cercò cercava in qualche modo non lo so forse era impazzito non lo so però è uno dei casi uno dei tanti casi potremmo stare qui a citarne a decine centinaia di queste persone che ormai poi pensate gli studenti che escono fuori da uno di questi immaginate e questo io dico sempre questi discorsi che facciamo è bene che non li usate perché non sapete mai quando arriva un accademico e vi dice non è vero che Orwell si chiamava Blair e cosa fai che cosa fai poi siccome si finisce lì con il criterio di autorità torniamo di nuovo Orwell abbiamo fatto un bel giro perché Orwell c'è un saggio un saggio stupendo veramente stupendo dove lui dice proprio questa cosa dice a parte se ricordate in 1984 quando lui dice la libertà è la libertà di dire che 2 più 2 fa 4 che Schopenhauer odiava Hegel questa è la verità che fa 2 questo è il fatto storico infatti volevo citarlo insomma in 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 questo saggio gli dice la cosa più difficile è proprio quella di percepire la 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 realtà così com'è to see to see what is in front of one's nose needs a cost a constant struggle infatti questo saggio si chiama di fronte al naso si chiama per la quale e dice per vedere quello che uno c'è bisogno di uno sforzo continuo per vedere quello che uno ha davanti al naso vedete che immersione ma questo io aggiungerei perché dico sempre Orwell è un autore del novecento è un autore immensamente novecentesco perché questo è profondamente vero nel novecento a partire dal novecento dove la realtà è diventata una questione di argomentazione poi direte ma già i sofistici provavano ma i sofistici provavano questi ci sono riusciti i sofistici non avevano in mano i mezzi di comunicazione di massa globale enormi spaventosi che abbiamo noi con il potere di cambiare la mente delle persone allora lui dice sì ma guardate quello che avete davanti agli occhi in front of one nose di fronte al naso se viene uno e dice io sono il grandissimo cattedratico meraviglioso e ti dico che dice sì scusi ma non è così eppur si muove abbiamo grazie a questo enorme meccanismo non è che Orwell descriva casualmente il meccanismo del grande fratello e con quella meravigliosa postfazione che è la postfazione sul linguaggio sulle categorie del linguaggio della neolingua perché la lingua serve a che cosa? serve a influenzare i pensieri pensate la lingua con tutti i vari mezzi con tutto con diventa una cosa spaventosa infatti la torniamo vorremmo citare Marx quando diceva che di vare si unheimliche che le cose sono unheimliche sono spaventose terribili unheimliche è una parola difficile da tradurre una società influenzata dalle cose diventa una società in cui vede soltanto cose infatti persino nei discorsi sui mezzi succede spesso di restare impigliati in discorsi sugli oggetti e le cose come se queste possedessero un'anima e agissero autonomamente il vero problema non è qui non è nella società non è la macchina non è la pistola non è il mezzo ma l'intenzione di chi li usa questo noi non lo pensiamo più pensiamo in termini di cose il dibattito sulle 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 sparatorie nelle scuole è un problema relativo alle armi non è un problema della sanità di una società non è un problema dell'individuo che che arriva a fare queste cose non siamo più in grado di discutere sugli esseri umani perciò ci spostiamo alle cose così come l'individuo non è più individuo in quanto tale ma è individuo in quanto corpo la bigoressia il culto del corpo contemporaneo che cos'è? è uno spostare dall'essere umano al corpo guarda che bella pelle ma significa trattare l'essere umano come cosa? come se fosse un oggetto è un qualcosa che proviene appunto dall'ideologia dominante della nostra epoca tempo fa scusate sto esagerando con i riferimenti personali ma sono pertinenti c'era un amico che mi faceva notare una persona piena di tatuaggio dicevo guarda che stupidità io lo a me non piace parlare così delle persone perché tu non sai chi sono non sai che cosa che poveri desaziati che possono essere ma gli ho detto guarda tu non stai vedendo la stupidità forse anche indirettamente magari ma in realtà stai vedendo un esperimento di social engineering di ingegneria sociale perché non è che quella persona di farsi tutta quella quella di deturparsi il corpo gli è venuto così in mente perché si è alzata la mattina e ha detto adesso mi deturpo non è così c'è stato tutto un processo c'è tutto un meccanismo che l'ha portata lì dov'è il resto quando più non c'è quando altro più non c'è se io voglio quando siamo ridotti infatti Orwell si focalizza sull'annientamento dell'individuo è un elemento centrale nel pensiero di Orwell Winston Smith alla fine si annienta a tal punto infatti la frase finale del 1984 qual è? Winston Smith amava il grande fratello portarlo ad amare il grande fratello nel 1984 he loved big brother the end non è proprio the end perché poi ci sono le appendice sulla new line he loved big brother il suo mondo nel suo mondo Winston Smith finisce con una realtà in cui 2 più 2 fa quello che dice il partito questo è anche il discorso di O'Brien nel 1984 come dicevo torniamo alla eravamo al Fiorera la Spidistra in Fiorera la Spidistra infatti Orwell parliamo del 36 se voi prendete il libro inizia con un passaggio della lettera ai Corinzi della prima lettera ai Corinzi però se lo leggete con attenzione vedete che al posto della parola carità il testo sostituisce la parola denaro e se avessi tutta la fede tal che io potessi muovere le montagne se non ho denaro non sono nulla e anche se spendessi nel nutrire i poveri tutte le mie facoltà e dessi il mio corpo ad essere arso se non ho denaro quello niente mi giove sostituisce la carità con il denaro è già un bel incipit infatti tutta la storia di Gordon Comstock che è il protagonista di questo testo è basata su questa consapevolezza della corruzione che il denaro introduce nella società e il rigetto di questa corruzione andando sempre più in basso socialmente che c'è molto di autobiografico Orwell scrive sempre molto di autobiografico mentre la la spidistra è questo più arrivato la spidistra siccome la spidistra è in in Inghilterra una pianta tipicamente piccolo borghese che sta in tutte le case borghesi lui ne fa infatti tutto questo nel libro viene citato molte volte e Comstock è anche molto cattivo con le povere piante perché rappresentano appunto lo sventolare della virtù borghese infatti nel libro c'è un passaggio quando verso la fine ecco il testo inglese ha sognato una vita terribile solitaria squallida futile ha vissuto 30 anni e ha raggiunto nulla ma miseria ma questo era quello che lui aveva scelto nel senso della scelta elementale perché la scelta è una determinazione della libertà quando tu non puoi più scegliere anche se dici di essere libero non lo sei più Comstock vuole essere libero era quello che voleva anche ancora adesso e voleva scendere sempre più basso c'è anche il motivo Comstock poi siccome la sua fidanzata aspetta un bambino allora deve rinunciare a quel suo progetto per via della necessità he wanted to sink down nel fango dove il denaro non domina ma questo affare del bambino ha cambiato tutto era una situazione banale ma è così e poi dice private vice public virtues vizi privati pubbliche vertù dilemma vecchio quanto il mondo vi ricordate se avete visto l'altro video chi era che parlava di vizi privati pubbliche vertù la favola delle api cioè qui queste cose le fa spesso ci sono molte citazioni nascoste nei suoi libri e così come nel testo di Comstock ad esempio lui parla della nostra civiltà fondata sul sul greed sul greed sarebbe avidità e paura avidità e paura e poi però lui vede nelle classi povere la capacità di di uscire da questo meccanismo la forza di uscire il popolo il popolo di cui dicevamo e ci sono passi anche grandemente lirici visto migliaia e milioni di schiavi andare avanti e piegarsi di fronte al trono del denaro navi che si muovono come dicevamo è un libro davvero da legge cercherò un po' di accelerare perché credo che abbiamo fatto tanti ma dopo Fiorirà la Spidistra Orwell scriverà omaggio alla Catalonia nel 38 che è il libro che racconta della sua esperienza durante la guerra di Spagna qui anche ci vorrebbe una parentesi enorme perché Orwell appunto da individuo decente decide di andare in Spagna e combattere contro fascisti contro Franco questo testo è fondamentale perché qui di nuovo lui si trova di fronte a una realtà in cui lui va per combattere per una causa però si accorge che quella causa in realtà era stata tradita proprio da quelli che avrebbero dovuto sostenerla ossia i comunisti stalinisti allora dice ma che situazione è questa e siccome poi questo discorso Orwell lo spiegherà c'è un saggio molto bello sulle riflessioni che verrà scritto molto dopo negli anni 40 sulle delle riflessioni sulla guerra di Spagna in cui ci sono delle domande che ancora oggi rimangono aperte dal punto di vista storico dal punto di vista in cui lui si chiede l'interesse dei russi a far fallire la rivoluzione era chiaro perché non volevano che ci fosse un esperimento così come c'era l'interesse dei russi a far fallire decenni dopo l'eurocomunismo in Europa perché non volevano far vedere un modello alternativo un modello che non fosse un totalitarismo di Stato ma lui dice però non mi è chiaro l'intento dell'Inghilterra ad esempio in tutto questo e lui lo attribuisce a una inettitudine della classe dirigente inglese però è un tema molto un tema da discutere è un tema su cui ci sarebbe molto da dire diciamo e ci sono moltissimi passaggi in maggio del catalone però qui c'è un passo in cui lui si trova di fronte a un lo chiamo a fat russian agent un agente russo un grasso agente russo che prendeva tutti i rifugiati e stranieri e per giustificare certe cose che stavano facendo i comunisti contro gli anarchisti che arrestavano infatti arrestavano quelli che combattevano dalla loro parte una roba la storia della guerra di Spagna ancora bisognerbbe andrebbe ancora scritta orwell sarebbe un ottimo punto d'inizio e c'è un'osservazione che orwell fa dice io lo guardavo con interesse perché era la prima volta che vedevo una persona che sapevo che stava dicendo che sapeva di star dicendo delle bugie a meno che poi aggiunge non si contano i giornalisti che quelli è stupendo quel passaggio I've seen a person whose profession was telling Leister il cui lavoro la professione era proprio quella di raccontare menzogne eccetto i giornalisti se non contiamo i giornalisti e quello che invece a orwell piaceva grandemente fu la prima volta che lui fece questa esperienza fu in Spagna in cui lui lo scrive appunto in questo testo gli esseri umani si comportavano come esseri umani e non come delle rotelle nel macchinario capitalista è la prima volta che Orwell fa esperienza di una società in cui gli esseri umani agiscono da esseri umani non come persone che eseguono dei programmi dei manzionari delle direttive per il pane il mulo che segue che corre dietro la carota a questo punto non so se forse è meglio sospendere oppure continuare accelerare perché adesso arriviamo al 1937 ed è un anno importante in quanto lui scrisse pubblicò The Road to Wigan Pier la strada verso Wigan Pier che è una zona nel nord industriale dell'Inghilterra tra Lancashire e New York e in questo testo vedete se si leggono i testi di Orwell nella loro successione cronologica si si accorge dello sviluppo anche dell'evoluzione della maggior consapevolezza che Orwell acquisisce di anno in anno della situazione in cui si trova Orwell era uno che aveva delle idee ma a volte cambiava anche non aveva delle idee rigide scritte le cambiava appunto rispetto alle situazioni con cui si trovava ad avere a che fare se l'impero britannico non fosse stato quello che era forse Orwell non sarebbe non avrebbe mai scritto nulla sarebbe rimasto un ufficiale di polizia volevo dire se l'impero britannico fosse stato quello che dichiarava di essere però lui dall'interno del meccanismo vedeva qualcosa d'altro così come purtroppo capita a noi ancora oggi di entrare pensate ad esempio il meccanismo commerciale basta entrare in qualunque società commerciale per vedere appunto subito la doppia morale in azione From questo ricordava come questo fosse proprio uno dei grandi problemi della dissociazione psichica dell'uomo dell'individuo contemporaneo in quanto entrando in una ditta in una società commerciale vende il prodotto X scarpe allora quelle scarpe che vende sono le scarpe migliori del mondo sono le più belle sono quelle che sono fatte meglio eccetera eccetera quando andrà e questo lo dice lo ripete fa meeting parla con altri quando andrà in un'altra ditta per parlare che magari vende anche scarpe ma che sono l'esatto opposto delle scarpe che vendeva prima anche quelle saranno le scarpe migliori del mondo mentre quelle che vendeva prima erano le scarpe peggiori del mondo questa malleabilità facciamo l'esempio delle scarpe vale per tutto vale per la politica vale per la società vale per tutto cioè l'individuo contemporaneo grazie al meccanismo commerciale è diventato incredibilmente malleabile come se appunto 2 più 2 facesse 4 secondo convenienza che torniamo il discorso di O'Brien in 1984 che dice se il partito vuole che tu ti sollevi in aria e voli tu ti sollevi in aria e voli anche se non ti sollevi in aria e voli vedete come questi modi questi modi di pensare questi meccanismi entrano nella testa dell'individuo senza che egli se ne accorga perché c'è uno che viene e ti dice guarda io ti do il pane ergo devi fare questo ma nel fare questo stai cambiando te stesso società commerciali avanzate sono società infatti non è che lo stiamo a dire qui insomma lo dicono da un secolo e mezzo in cui vige pensiamo ad esempio al problema dell'alienazione è un elemento tipico classico delle società commerciali avanzate per tutto quello che introduce per tutto quello che richiede all'individuo partecipazione obbedienza si potrebbe riassumere nel vecchio nella vecchie tre parole del fascismo credere obbedire combattere solo che invece di combattere può essere combattere reale in Afghanistan dove vuoi oppure combattere nel senso che sei sul campo commerciale contro un'altra ditta il problema vero è magari io spero che nessuno di quelli che possono fare obiezioni di tal genere ascolti questi discorsi ma ci sono persone che possono fare l'obiezione ma si deve mangiare ci si deve svendere significa vedete Adorno se la fa un pochettino semplice in questo discorso quando dice che tutto questo meccanismo che viene imposto all'individuo poi l'individuo lo continua a subire anche quando si rende conto che è falso orrendo o sbagliato perché ha un attaccamento emotivo a quel meccanismo che gli è stato inculcato fin da quando era bambino io credo che se la faccia un po' facile da questo punto di vista sì ci sarà pure questo elemento ma non è certamente l'elemento determinante l'elemento determinante come prova appunto a dimostrare Orwell è una perversione del linguaggio del pensiero l'attaccamento emotivo può essere il terzo fattore ma sono linguaggio e pensiero per questo bisogna attaccare la cultura per questo bisogna distruggere la cultura perché la cultura è quella che continua a dire 2 più 2 fa 4 di fronte ad un argomento assurdo di fronte a uno che viene e ti dice non citiamolo più a quello lì su Schopenhauer la cultura sa che non è così e non la cultura la persona la cultura è quell'insieme di conoscenze che che ci hanno portati dove siamo umanamente dove siamo oggi questa confusione tra alto basso è una cosa che affligge quasi ogni settore quasi ogni campo io spesso cito volevo un giorno magari potremmo parlare il tema del razzismo razzismo è diventata una parola che può essere applicata a qualunque cosa dunque è tutto nulla è nulla però è sempre qualcosa che è nelle mani di chi di chi detiene i mezzi a me in america mi venivano qualche anno fa mi dicevano però almeno abbiamo un presidente di colore io gli dicevo sempre a me che il fatto che è di colore non me ne frega niente che significa che cosa aggiunge o toglie a quello che fa o non fa potrebbe anche essere blu che importanza capisco il significato storico ma il significato storico viene da una situazione che era sbagliata in origine sempre in america quando si va dal medico ti fanno compilare un modulo se vai da un medico nuovo un specialista dove ti chiedono una delle domande la più idiota delle domande che si possa fare è race razza io in genere scrivo o non scrivo nulla se non metto una barra oppure se sono un po' scrivo umana oppure se sono davvero che proprio che mi fanno arrabbiare una volta mi è successo siccome questo era pure un dermatologo alla domanda race c'è scritto there is no such thing non la razza non esiste poi gli ho aggiunto virgola e punto e in quanto medico proprio lei dovrebbe saperlo perché le razze non esistono perché non esista la razza mi dispiace e questo breaking news in una società come questa dobbiamo questa diventa come una breaking news da un punto di vista biologico le razze non esiste non c'è una differenza significativa o sostanziale tra il dna di qualunque essere umano sulla terra ora come si fa però siccome abbiamo avuto dei paradigmi che erano completamente folli oggi qualunque discorso che voglia tenere in considerazione che queste cose non esistono diventa un discorso strano oppure anche discorsi di considerare gli esseri umani per essere umani non per nessun altro fattore indipendente ma questo può avere un aspetto a tanti aspetti però se tu lo dici in maniera positiva che sembra il buonismo allora va bene se invece lo dici in maniera negativa che non va bene ma non si può ragionare così perché questa è ideologia partendo dal presupposto che non esistono le razze poi bisogna fare dei discorsi sul fatto che esistono le culture perciò persone di culture diverse agiranno in maniera diversa no perché questo diventa razzista allora veramente allora davvero siamo alla frutta siamo a quella frutta appunto di cui Orwell parla la perversione del linguaggio il trasformare il 2 più 2 in 8 e da chi dipende questo da chi detiene i mezzi che determina dunque non soltanto i fini ma anche il modo di pensare infatti c'è un passo in Orwell in cui Orwell dice una cosa dice la schiavitù perfetta è quella che si ottiene non quando si fa scoccare la frusta ma quando l'animale si muove ancora prima che la frusta che si senta lo scocco della frusta quella è la schiavitù e per raggiungere quel tipo di schiavitù devi cambiare il modus operandi della persona infatti Orwell e adesso purtroppo chiudo poi magari vediamo se riusciamo qualche altro giorno a integrare quello che manca ma insomma il tempo è non buono capisco che già molti saranno stanchi di ascoltare questo discorso perché purtroppo il discorso su Orwell è incredibilmente bello ma incredibilmente lungo perché infatti adesso mi sono in mente certi discorsi relativi alla fattoria degli animali ma che non possiamo fare perché la fattoria degli animali è proprio questo è il paradigma l'immersione di questo paradigma dalla dittatura degli esseri umani si arriva alla dittatura dei maiali ma come ci si passa ci si passa attraverso tutta una serie di trasformazioni concettuali no? prima tutti gli animali sono uguali poi no ma alcuni animali sono più uguali di altri e gli altri che ci credono e c'è quella bellissima quel bellissimo passo della figura di Clover il cavallo e Clover dice Clover piangendo è molto bella quella figura la figura del cavallo anche molto perché e Clover piangendo se lei potesse aver se lei potesse if she could have spoken her se potesse se avesse potuto esprimere i suoi pensieri sarebbe stato nel dire che non era quello a cui miravano quando qualche anno fa si erano imposti come obiettivo di spodestare la specie umana non era quello a cui ci direggevamo non era la dittatura di Napoleone del capo dei maiani ora siccome Orwell fa costantemente costantemente nella sua opera nel suo lavoro il riferimento a questi discorsi il riferimento alla realtà contro tutte le fantasie le ubbie di coloro che dominano e c'è un passaggio un testo che è a me molto caro e molto breve qui nei saggi che si intitola Some Thoughts on the Common Toad alcuni pensieri sul rospo comuni che fu pubblicato da lui sul Tribune il 12 aprile del 1946 voi direte ma come un saggio sul rospo bellissimo ora Orwell di fronte a questo macello di fronte a questo disastro di fronte a questo sconvolgimento che è la società di idee di concetti che è la società contemporanea scrive questo saggio sul rospo inizia a metà del saggio dopo aver parlato del rospo e delle sue caratteristiche dice è davvero sbagliato provare piacere nella primavera in altri cambi stagionali per essere più precisi è politicamente il principle condannabile quando e politicamente condannabile ma diciamo andiamo condannabile anche se non è proprio il termine migliore mentre ci troviamo tutti quanti sotto il i ferri del sistema capitalista mostrare mostrare point out to point out indicare che la vita è spesso che è piacevole spesso vivere la vita per via del suono di un blackbird di un uccello un un albero giallo in ottobre o alcuni fenomeni naturali che non costano denaro e non hanno quello che gli editori dei giornali di sinistra chiamerebbero una prospettiva politica questa l'altra idea è che questa è un'età di macchine e non amare la macchina o anche limitare il suo dominio significa guardare indietro essere reazionari a volte pure ridicoli ma che tipo di sfuturo stiamo noi preparando per noi stessi se un individuo non può gustare il ritorno della primavera perché allora dovremmo essere felici in un'utopia del lavoro vedete qui già ci sono proprio tutti quei temi che sono di ovvio ma poi c'è questo tema che è bellissimo del ritorno alla natura è veramente sbagliato trovare piacere per la primavera e altri cambi stagionali allora perché in genere questa idea del ritorno alla natura nel novecento a causa appunto dei movimenti fascisti era vista attaccata come reazionaria come qualcosa di appartenente a quei movimenti invece lo scrive in questo saggio dice questa idea è falsa è dimostrabilmente falsa perché nelle letture medievale nelle ballate sono pieni di entusiasmo giorgiano per l'arte degli agricoltori senza considerare l'arte cinese giapponese dunque dice è tutto non è vero però nel momento in cui si parla di questo ritorno alla natura dunque del ritorno il ritorno alla natura significa anche il ritorno all'umanità significa il ritorno Platone diceva l'uomo è natura e il ritorno ancora il ritorno a se stessi che la civiltà delle macchine non poteva tollerare oggi la civiltà delle macchine non ne ha più bisogno perché l'uomo non è più è uscito dalla naturalità l'individuo contemporaneo pensa che il cibo cresce negli scaffali dei supermercati perciò non si preoccupa di distruggere l'ambiente perché dice ma tanto il mangiare viene dai supermercati dunque gli alberi non mi servono cioè l'individuo contemporaneo è un individuo innaturale è diventato un individuo innaturale e non soltanto in questa immagine del rospo c'è un ritorno all'infanzia infatti lo dice I think that by retaining penso che mantenendo l'amore infantile da bambini di queste cose come alberi pesci farfalle e per tornare al mio primo esempio rospi uno crea uno rende un futuro decente pacifico più probabile e che invece predicando la dottrina che nulla deve essere ammirato eccetto l'acciaio e il cemento uno si assicura che gli esseri umani non avranno più nessuna uscita per la loro energia eccetto che nel odio e nell'adorazione dei capi a parte che ci sono i temi di 1984 ma ci sono anche i temi appunto che ancora oggi ci affliggono infatti il saggio finisce scrivendo le bombe atomiche si si accumulano nelle fabbriche la polizia si muove attraverso le città le menzogne vengono propagandate attraverso gli altoparlanti ma la terra gira ancora attorno al sole e neppure i dittatori o i burocrati per quanto lo disapprovino questo processo sono in grado di prevenirlo 2 più 2 che fa 4 infatti quando Winston Smith sta entrando nella resistenza insieme a Giulia nel 1984 nella finta resistenza comandata da O'Brien per attirarlo e per fregarlo quando deve fare un brindisi non fa un brindisi alla morte del grande fratello alla fine della dittatura no fa un brindisi al passato to the past abbiamo detto altre volte oggi c'è proprio tutto un meccanismo per distruggere il passato si dice che crea l'idea del passato questo ritorno al passato una fallacia una sindrome chissà che cosa tra un po' ci metteranno anche in catena ci daranno la camicia di forza quando parliamo del passato così come faranno con Winston Smith lo portano nella stanza 101 perché il passato è solido è lì il passato è garanzia di qualcosa che è stato e che è vero e questo è il tiranno il dittatore il capitalista colui che detiene i mezzi vuole cambiare il presente attraverso il passato oppure cambiare il passato attraverso il presente riscriverlo darci tutta una serie di versioni creando confusione perché la confusione genera opinione e l'opinione è contraria all'idea come tutti i temi si mettono vanno tutti a braccetto come da una parte ci stanno quelli che dicono no così non è eppur si muove e dall'altra quelli che invece come 1984 vedono nell'immagine del futuro soltanto un viso umano calpestato da uno stivale ineterno la cultura autori come Orwell sono quelli che resistono sono quelli che sanno rispondere a questa gente così non è anche se i dittatori e i burocrati disapprovano grazie grazie a tutti